Un saluto dal Tg della mobilità, piano della mobilità per le festività natalizie, per la giornata di oggi è prevista un'intensificazione sulle metro A e C e più corse per 17 linee di bus dirette in centro e verso le zone commerciali. Attive tre linee di bus gratuite, la Fri 1 e la Fri 2 che partono da Termini e da Piazzale dei Partigiani Stazione Ostiense e arrivano in centro con capolinea Largo Chigi e poi c'è la linea 100 che viaggia tra Porta Pinciana e Piazza Cavour. Sino al 7 di gennaio le zone a traffico limitato diurne di centro e tridente sono attive tutti i giorni feriali e festivi con orario 6.30.20.